ha accoltellato il marito che l'aveva picchiata perché aveva scoperto una relazione extraconiugale della donna. Una camerunense di 39 anni è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, che ha riportato ferite guaribili in un mese, è stato invece denunciato a piede libero per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La lite è scoppiata intorno alla mezzanotte di giovedì in via annunziata a San Vito dei Normanni. L'uomo, un operaio in censurato di 43 anni, anche egli camerunense, dopo aver scoperto il tradimento della moglie, l'ha colpita con calci e pugni. La donna ha così impugnato un coltello da cucina con una lama da 25 centimetri e lo ha pugnalato all'addome. Dopo essere stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Brindisi, il ferito è stato trasferito al Vito Fazzi di Lecce dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per trauma toracico da fendente. Non è in pericolo di vita, la prognosi è di 30 giorni. Anche la donna è stata trasportata all'ospedale Perrino dove le sono stati diagnosticati un trauma cranico-facciale, altri traumi alla colonna vertebrale e al bacino oltre a dolori addominali. La prognosi è di 10 giorni. Subito dopo le cure è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e rinchiusa nella casa circondariale di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria.